Quando il Granduca di Toscana, Leopoldo, nel 1839, si impegnò a costruire questa pineta lungo il litorale che oggi abbraccia i comuni di Rosignano Marittimo, Cecina e Bibbona, lo scopo dichiarato fu quello di riparare, di proteggere le culture agricole retrostanti dalla violenza del vento, dalla violenza della salzedine e dei venti marini. Successivamente tale opera è stata portata avanti con devozione e successo dal Corpo Forestale dello Stato. Ecco perché ancora oggi possiamo godere di questi percorsi lungo la costa degli Etruschi. Ed è qui che ti invito a passare i tuoi weekend, le tue vacanze e magari passeggiare in questa pineta con le persone a te più care. Dopo aver assaggiato, dopo aver mangiato e bevuto e goduto dei frutti della terra delle aziende agricole locali che da oltre un secolo si riparano grazie a questa pineta. I frutti di una terra che ti appartiene e che ti aspetta. A presto, ciao!